Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di penne 300 grammi di pisellini surgelati 300 grammi di pomodori da sugo Una cipolla 50 grammi di burro Una fetta di vancetta Basilico Sali Pepe Preparazione Unire i pomodori spezzettati I piselli scongelati Sali Pepe e far cuocere per 20 o 30 minuti Cuocere le penne al dente in abbondante acqua salata Condirle con la salsa preparata Aggiungere il rimanente burro Il basilico tritato e servire Il piatto è pronto Buon appetito!